Siamo pronti per la programmazione? Avviciniamoci, mettiamoci al centro, alla luce, pronti per accogliere i vincitori di questa categoria. Prego Roberto. Allora, vince la valetta coreografia 2013, Luva Moverina! Vengo da questa parte. Allora, intanto, Meriola, questa la tiene lui piaciamente. Perfetto. Come? Investiremo bene. Ah sì? Ma sentiamo un po', ma che cosa? Mettiamoci al centro, per male divenerate. Mi ha scattato fless. Ah, è fantastico. Allora, come si investono i soldi che si vincono? Perfetto, è una domanda calzante. Si investono per l'allestimento del prossimo anno? Non è vero neanche a fine guarese. Non è vero neanche a guarese. Dobbiamo sfatare che vado a guarese. Ma cosa è almeno a guarese? Stai sicuro? Allora, vogliamo solo a guarese. Cosa avrete con questi soldi? C'è, non si beve, che brinda. Pamperetto. Pamperetto. E invece a chi volete dedicarlo? A noi stessi. Grazie. 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 Grazie.